Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la seconda maglia della Corea del Sud in edizione fun, la maglia un po' più comoda dedicata ai tifosi. Prevalentemente nera, la maglia da trasferta Nike South Korea 2022 World Cup presenta una grafica multicolore sul davanti, sul retro e sulle maniche. I loghi Nike e Corea FA sulla maglia da trasferta sono bianchi. La divisa da trasferta mente in risalto Taegeuk, il simbolo che si trova sulla bandiera coreana che rappresenta l'orgoglio nazionale e l'equilibrio tra cielo, blu, e terra, rosso. Pantaloncini e calzettori neri completano la nuova maglia da trasferta Nike Corea del Sud 2022. Per entrambe le divise casalinghe da trasferta della Corea del Sud, un emblema sul colletto posteriore esplicita il nome del paese in coreano. Cosa ne pensate? A me questa maglia piace. Nella mia classifica prende quattro stelle. Mi piace questo tono scuro con queste pennellate di colori veramente molto belle. Il costo, lo vedete qui sopra, per una maglia fatta così bene, con delle rifiniture così giuste, accurate, è veramente bassissimo. I tempi di spedizione sono stati ottimi. Questa è arrivata in 23 giorni. In descrizione, qua sotto, trovate i riferimenti per ordinare la maglia. Quindi andate a visitare il sito per vedere che offerte ci sono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan.